Grazie a tutti. E' schifo, questa è la parente che ci ha dato il comune, le cinque aule, guardate devono entrare cinque classi, sto facendo il video, la manda a striscia la notizia, signora, perché basta, stiamo in prigione, in prigione, vi rendete conto? Non ci possiamo muovere i bambini, guardate quando piove i bambini dove devono attraversare, ma vi faccio tutto, vi faccio tutto, guardate qua, guardate, c'è uno schifo perché lei ci ha ospitato qua, la ringraziamo, però è uno schifo, i bambini non possono attraversare. Vi rendete conto? Ci rendiamo conto della situazione? Guardate? Guardate qua la situazione come sta, guardate, è uno schifo, ma questo non è caduto? No, non hanno battuto, signora, cara signora, però i bambini passano. Non esiste, adesso questo video lo mando a striscia la notizia, perché si fa schifo, non possiamo portare i bambini in questo stato, perché la preside della parente ci ha vietato di entrare dall'altra parte. Cacca creatura uccidio? Cacca creatura uccidio? Guardate, 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 ora vado fino in fondo, questi bambini devono fare questo percorso da un parcheggio che se piove come entrano i bambini qua? Come entrano? Cioè fa schifo, fa schifo, cosa che noi potremmo entrare benissimamente dall'entrata principale e non ci fa entrare, perché la signora preside dice che noi disturbiamo. La ringraziamo perché lei ci ha dato queste classi, per l'amor di Dio, però è uno schifo, se ne sono caduti i calcinaggini vicino alla scuola. Non devo pescare le creature un giorno? Noi potremmo entrare di qua e non ci fa entrare, è uno schifo, mi appello al sindaco, vabbè, o sindaco può, che si vede i fagli? Guardate i bambini dove devono entrare, guardate, quello è il parcheggio, guardate dove devono entrare i bambini, non c'è copertura, non c'è niente e devono fare quel percorso la mattina e se piove adesso questo immediatamente...